Io mi auguro che questo sia l'ultimo processo dell'era Pignatone. Si è stati soliti istruire i processi in un modo particolare. Grande richiamo mediatico, addirittura ispirato dalla Procura della Repubblica. Indagini fatte in forma ossessiva, in qualche caso addirittura con profili intimidatori. Abuso del ricorso alla intercettazione telefonica. Voi giudici togati e soprattutto voi giudici popolari sottoposti ad un bombardamento mediatico. Non mi venite a dire che voi sarete impermeabili. C'è qualcuno, anche tra i difensori, che sia convinto che Cucchi non sia stato ucciso. Ma forse Cucchi è morto, non è stato ucciso. I processi stalinisti partivano da un pregiudizio per pervenire, per trovare in ogni caso le prove della responsabilità di quell'imputato. E qui non si è fatto molto di diverso. Un processo di fatto staliniano, ha detto Naso, qual è il vostro giudizio su queste parole? Che se c'è una persona che ha subito un processo staliniano, quella è Stefano Cucchi. Non si perseguono sentenze giuste, si perseguono sentenze legittime. Per me la toga non è una tonaca. Non so se il pubblico ministero la ritiene altrettanto, sentendosi investito di un ruolo etico. Tutte queste perizie hanno parlato di morte improvvisa e accidentale. Qui nessuno si sogna di negare che Cucchi sia stato malmenato. Ma il processo non è finalizzato a stabilire questo. Il processo è finalizzato a stabilire se in ragione di quelle percosse Cucchi è morto. Un conto è rispondere di percosse o di lesioni volontarie, un conto è rispondere di omicidio preterintenzionale. Per questo stagio ormai direi che non c'è ombra di dubbio e di quello Stefano è morto e tutto il resto non sono parole vuote. Gli stessi medici legali citati dall'avvocato di Mandolini hanno negato questo pestaggio. Quindi già questo lo dice lunga sull'autorevolezza di quelle perizie. Io non credo alla resipiscenza così tardiva di Francesco Tedesco. È una strategia interessata. Frutto della ossessione che la anima, signor Pubblico Ministero, voler sostenere a tutti i costi le sue idee. L'ho portato per regalarle un libretto, Grandi miti greci, Narciso. Lei è un inquisitore nato. Lei andrebbe bene per la santa inquisizione. C'ha un'opportunità, si faccia chiamare da pignatone. Che cosa dobbiamo trarre dalla lettura di un verbale d'arresto, cioè quell'atto con il quale si priva un cittadino della di lui libertà personale. Io e i miei genitori non possiamo tollerare che l'avvocato Naso oggi abbia trasformato quest'udienza in un vero e proprio cabaret. E soprattutto non possiamo tollerare la mancanza di rispetto nei confronti del PM, dottor Musarò e della Procura. Quindi è stata una scelta di fatto conseguente uscire dall'aula? Ma assolutamente sì, non c'era nessun senso per restare lì dentro. Quel che è avvenuto a povero Stefano Cucchi purtroppo avviene molto, ma molto, ma molto, ma molto più frequentemente di quanto voi possiate immaginare. Ma se avviene in danno, per esempio di un Casa Monica, non gliene frega niente a nessuno! Insisto perché Mandolini si è assolto perché i fatti non sussistono, ovvero perché i fatti non costituiscono reato.